quando un professore di navigazione insegna in un'articolazione CAIM conduzione apparati impianti marittimi deve aspettare il momento adatto cioè quando il professore di macchine spiega consumo e bunkeraggio bunkeraggio sarebbe il rifornimento delle navi subito dopo interviene nel suo programma il professore di navigazione per spiegare il noon report e il concetto si chiama in italiano ovviamente rapporto di mezzogiorno e il concetto di base delle remainings on board rimanenze a bordo che devono essere riportate e aggiornate proprio dal noon report la spiegazione teorica l'abbiamo già fatta questo che vedete è un compito che ho dato nell'ultimo anno scolastico ad una quinta perché può succedere che in quarta non venga fatto dal professore di macchine questo programma ma venga fatto in quinta quindi può essere somministrato ai ragazzi sia in quarta che in quinta bisogna andare d'accordo col professore di macchine buona visione la prima parte è a risposta aperta anche se dico sempre ai ragazzi di essere concisi io ho lasciato dello spazio sia per eventuali disegni che per scrivere in stampatello chiedo loro la cortesia di scrivere in stampatello la loro risposta aperta la prima domanda è a cosa serve la compagnia armatoriale ricevere giornalmente in un report da una nave in navigazione allora la prima cosa che ho spiegato ai ragazzi che bisogna fare il confronto con i dati AIS l'armatore riceve i dati AIS in maniera continuativa e ogni ovviamente mezzogiorno locale 12 locali di una normale navigazione ora locale mi raccomando fa il confronto con i dati AIS poi bisogna dire che bisogna fare un confronto 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 con le navi gemelle perché io devo essere informato soprattutto per i valori di consumo se ci sono delle diciamo disparità fra navi gemelle considerate che alcuni armatori mercantili hanno fino a 25-30 navi gemelle e fare il confronto con i dati del NUNA report è molto importante per verificare se una nave consumi di più cosa venga consumato di più qui devo scrivere anche la pianificazione pianificazione bunkeraggio dopo aver pianificato il bunkeraggio sappiamo poi ci sarà una domanda dopo che l'armatore deve inviare all'agenzia marittima le richieste di bunkeraggio nel porto in cui la nave sta per arrivare in uno dei porti pensiamo ad una nave da crociera che di solito in un giro chiamiamolo così di crociera fa il bunkeraggio in un porto solo pianificazione bunkeraggio e soprattutto controllo controllo ritardi controllo del ritardo ricordiamo che ci sono anche dei dati oltre delle rimanenze a bordo e quindi del consumo ci sono anche dei dati relativi al meteo e quindi noi possiamo verificare sempre con il confronto con i dati AIS il motivo per cui una nave sia in ritardo lo controlliamo verificando confrontando la velocità propria con la velocità effettiva e quindi ci rendiamo conto dei ritardi dei consumi e dei ritardi diciamo che queste sono le quattro cose a cui il NUN report serve soprattutto alla compagnia armatoriale perché una copia del NUN report deve essere inviata anche l'agenzia marittima del porto di arrivo in realtà la catena dovrebbe essere la seguente nave armatore e poi agenzia o agenzie l'armatore lo può inviare a più di un'agenzia agenzia marittima e quindi qua dobbiamo scrivere che si fa l'organizzazione del bunkeraggio qualche volta l'armatore organizza il bunkeraggio in maniera indipendente dalla nave però di solito la procedura è questa anche perché può succedere in casi eccezionali che il bunkeraggio già organizzato in un porto purtroppo deve essere anticipato perché durante la navigazione ci sono stati maggiori consumi pensiamo a un motondoso particolarmente intenso o una corrente particolarmente intensa durante la navigazione possono far ritardare la nave e soprattutto consumare di più quindi di solito la catena è questa qualche volta dobbiamo mettere che l'armatore organizza il bunkeraggio in maniera indipendente comunque l'agenzia deve essere informata quindi una copia del noon report la nave lo produce lo manda all'armatore che lo invia all'agenzia marittima in copia anche perché poi vedremo dopo c'è un'altra domanda che ci spiegherà alcune cose sulle novità dal 2015 in poi su come viene inviato il noon report in quale formato e con quale sistema di trasmissione ecco la domanda viene inviato il noon report alla compagnia armatoriale dopo il 2015 abbiamo fatto un'analisi storica intervistando anche dei direttori in pensione e dopo il 2015 quindi ci siamo rivolti a direttori o a primi ufficiali di macchina che non sono in pensione quindi che stanno lavorando dopo il 2015 la nave invia il noon report in formato scheda tecnica noon report io qua scrivo scheda tecnica e ovviamente una scheda tecnica digitale quindi un file digitale questa scheda tecnica digitale è in formato xls è in formato ovviamente excel questo formato permette l'archiviazione in modo automatico dove però non viene inviato ad all'armatore direttamente viene inviato ad un server a questo server ovviamente questo invio si chiama via internet così si capisce via internet a questo server come dicevo nella domanda precedente hanno l'autorizzazione di accedere ovviamente l'armatore o compagnia armatoriale e posso dare l'autorizzazione temporanea alle varie agenzie marittime quindi adesso la conservazione essendo su un server io posso accedere come armatore da qualsiasi periferica anche un tablet anche un computer dove mi trovo senza l'obbligo di tenere una copia in ufficio sappiamo che il server soprattutto alcuni server seri io non voglio fare pubblicità ma ci sono alcuni server che dopo qualche ora hanno già fatto un certo numero di copie quindi se un server viene danneggiato interviene subito un altro server quindi insomma c'è la possibilità di rendere sicuro l'archiviazione e la consultazione di un documento elettronico quindi scheda tecnica digitale in formato xls excel o qualsiasi formato simile alla scheda tecnica quindi la risposta qual è in quale formato scheda tecnica in quale sistema via internet ad un server viene inviato in un report dopo il 2015 alcune compagnie ancora non si sono rivolte a dei server dedicati e quindi avviene nave via internet compagnia armatoriale che ha la necessità poi di salvare in proprio questo non report direttamente in un server siccome la cosa è migliorata le navi la mandano direttamente in un server in una cartella dedicata a quella nave sotto cifratura quindi praticamente l'ingresso è protetto questa numero 4 è una domanda molto facile a quale orario viene inviato il non report durante la navigazione dobbiamo scriverlo 12 e 00 local time quindi bisogna fare molta attenzione ecco attenzione che poi sotto vedremo le responsabilità del momento in cui venga inviato quando non c'era la possibilità di comunicare da qualsiasi punto del globo da qualsiasi punto del mare il non report veniva archiviato e poi veniva consegnato all'arrivo o via fax o addirittura per spedizione all'armatore spedizione postale poi le cose si sono evolute come avete capito e a pochi minuti dalle 12 local time avviene l'invio digitale quindi qua dobbiamo scrivere invio digitale con le modalità che abbiamo visto nella domanda nella risposta precedente attenzione qui la domanda è perché bisogna fare questo argomento sia conduzione del mezzo navale in maniera marginale ma soprattutto conduzione a paradimpianti marittime a entrambe le articolazioni ma non solo bisogna farlo anche all'articolazione logistica perché l'agenzia marittima chiunque lavori in agenzia deve sapere che cosa vede che cosa ha davanti quali sono le responsabilità del secondo ufficiale di coperta nella compilazione in un report ovviamente i dati che vengono registrati non sono solamente le rimanenze a bordo di cui si può anche occupare il secondo ufficiale di coperta ma in realtà il secondo ufficiale di coperta deve fornire dati meteo stato del mare vento intensità e provenienza direzione di provenienza del vento cioè tutti i dati meteorologici qui possiamo scrivere anche precipitazioni e ovviamente questi dati vanno forniti siccome sono dati che possono arrivare parzialmente in maniera automatica alla compilazione in un report devono essere forniti dal secondo ufficiale di coperta e il secondo ufficiale di coperta deve anche specificare il punto in cui lo stato del mare e il vento colpiscono la nave quindi posizione posizione relativa rispetto alla nave quindi queste sono le responsabilità del secondo ufficiale di coperta vediamo sotto sotto c'è scritto chi è responsabile della stesura del non report chi invece lo deve vitimare digitalmente prima dell'invio in quale condizione della nave non report non va inviato questa è una domanda sono praticamente tre domande allora la stesura ovviamente dobbiamo scrivere che il secondo ufficiale di coperta invia tutto al direttore il direttore compila il foglio digitale che per la maggior parte dei casi soprattutto per le remaining sonboard è a compilazione automatica fa fare i vari allievi di coperta di macchine i riliei manuali delle cisterne perché esiste anche questo il direttore finisce di compilare il non report lo vidima cioè mette una spunta approvato dal direttore questo si può fare in maniera digitale e poi il comandante quindi firma del comandante che è l'unica figura giuridica della nave mercantile e quindi è lui che fa uscire firma qui ovviamente dobbiamo scrivere firma digitale adesso che abbiamo passato tutti quanti il periodo covid capiamo benissimo cosa voglia dire la firma digitale firma digitale del comandante dobbiamo anche scrivere un'altra cosa che l'unico momento in cui in un report non va inviato è quando la nave è in cantiere ai lavori quindi non va inviato quando la nave è in cantiere scriviamolo con un altro colore quindi quando la nave è alla fonda fonda si quando la nave è in porto sempre per il discorso del bunkeraggio si perché si riportano anche il quantitativo di carburante il quantitativo di carburante imbarcato e ovviamente in navigazione scusate c'è un problema di tipo grafico ecco navigazione ovviamente si l'unico momento in cui la nave lavori dobbiamo scrivere no quindi qua l'alunno doveva scrivere il non report non va inviato quando la nave è ai lavori abbiamo finito la prima parte la prima parte ricordo che era composta da sei domande a risposta aperta non abbiamo trattato tutto l'argomento in un report però la maggior parte si abbiamo anche fatto un buon ripasso nella seconda parte che inizieremo fra poco c'è una pianificazione da fare non con l'esercizio di ortodromia o di lossodromia completo ma già risolto quindi l'alunno del quinto CAIM mi doveva semplicemente vedere quanto durava la pianificazione quanto era l'arrivo perché soprattutto per il consumo è importante fare questi calcoli e soprattutto quante volte durante la navigazione doveva essere inviato il non report deve essere inviato il non report come vedete la settima domanda l'ho lasciata in fondo con tanto spazio per risolvere il problema la seconda parte è relativa alla pianificazione l'abbiamo già detto bisogna fare immediatamente il calcolo della differenza di lambda fuso di longitudine fuso le differenze di fusi orari e quindi qua scriviamo partenza Vladivostok mettiamola così e sotto ci scriviamo lambda uguale 131 gradi Vladivostok è un porto russo della costa est della Russia e si affaccia ha delle isole di fronte ma si affaccia sul pacifico 131 gradi 56 primi usiamo adesso la nostra calcolatrice scientifica questa non ha il pulsante magico perché è quella digitale di Windows quella normalissima quindi facciamo 56 diviso 60 per trovare i decimi di grado uguale più 131 uguale quindi abbiamo trasformato la longitudine in gradi e decimi di grado ricordiamoci che qui è est torniamo sulla calcolatrice adesso dobbiamo fare quello che viene diviso 15 diviso 15 abbiamo trovato lambda in ore lambda in ore più perché l'est non serve più bisogna trasformarlo in più 8,795 periodico 8,795 periodico lambda fuso il numero intero più vicino lambda fuso uguale a più 9 più 9 ore quindi possiamo fare alfa bravo charlie delta eco foxtrot golf hotel il fuso più 9 e il fuso india quindi qua dobbiamo scrivere tra parentesi fuso india quindi abbiamo trovato il fuso orario di vladivostok facciamo una bella freccia scriviamo di qua arrivo san francisco arrivo san francisco la longitudine ce la copiamo 122 gradi e 20 primi ovest la longitudine in ore mettiamo subito sarà meno e con la calcolatrice facciamo la stessa procedura di prima 20 diviso 60 così ci sono i decimi i decimi di grado più 122 uguale quello che viene diviso 15 gradi così troviamo la lambda in ore 8 meno 8 virgola 15 periodico ecco qua qui questa volta il numero intero più vicino lambda in ore è uguale a meno 8 ore se andiamo dall'altra parte november oscar papa kibbeck romeo sierra tango uniform fuso uniform quindi dobbiamo passare dal fuso india al fuso uniform come se fosse un termometro dobbiamo partire da più 9 e arrivare a meno 8 quindi il delta lambda fuso delta lambda fuso è uguale basta fare lambda fuso della rio meno lambda fuso della partenza considerando questa pratica più veloce considerando noi dobbiamo passare da una temperatura di più 9 gradi e una temperatura di meno 8 gradi delta lambda fuso è meno 17 ore in realtà si viaggia verso est quindi si aumenta l'orario però quando arrivo sull'antimeridiano tolgo 24 ore quindi alla fine si riduce a meno 17 ore nella pianificazione dobbiamo mettere meno 17 ore perfetto adesso dobbiamo scrivere ora di previsto arrivo attenzione qui dobbiamo fare dobbiamo fare una sottrazione e scriviamoci la formula estimated time of departure che è quello che dobbiamo trovare uguale estimated time of arrival meno time to go meno delta lambda fuso questi meno sono i meno della formula quindi sono algebrici mi raccomando poi time to go è sempre positivo delta lambda fuso è negativo quindi ci sarà in realtà una delle due differenze poi alla fine sarà una somma ma lo vediamo dopo troviamo il time to go time to go è uguale alla distanza 4490 nautical mile diviso 16 kn uguale vediamo subito 4490 diviso 16 uguale sono 280 ore questa parte qui togliamo 280 uguale e moltiplichiamo per 60 per trovare i minuti 280 ore 37,5 minuti possiamo scrivere 38 minuti anche se i comandanti fanno fare l'approssimazione all'ora successiva ma non c'è problema quindi adesso noi dobbiamo trasformarli in giorni come si fa? si fa guardate bene la procedura azzeriamo 280 diviso 24 e sono 11 giorni e quindi ci scriviamo da una parte 11 giorni 11 giorni l'abbiamo scritti li togliamo quindi qua facciamo meno 11 uguale questo che viene dobbiamo rifare per 24 uguale 16 ore quindi 11 giorni 16 ore i minuti già li avevamo contati 38 minuti per complicare i calcoli io lascio stare i minuti come vi ripeto si fa l'approssimazione magari all'ora successiva però lasciamo stare i minuti abbassiamo un pochino il foglio ecco qua adesso possiamo fare il conto attenzione estimated time of arrival vi consiglio di fare il disegno molto in basso 11 marzo quindi qua scriviamo 11 03 questo estimated time of arrival alle ore 0 08 e 00 local time quindi 08 e 00 local time sappiamo che l'arrivo è fuso uniform 8 00 uniform quindi queste sono aspettate mettiamole più larghe 0 8 ore 00 minuti dell'11 marzo qui dobbiamo scrivere meno time to go meno 11 giorni 16 ore 38 minuti attenzione perché poi dobbiamo mettere meno delta lambda fuso quindi questo è meno aperta parentesi meno 17 ore quindi questo si ridurrà a più 18 ore più 17 ore scusate questo diventa più 17 ore quindi attenzione qui che cosa dobbiamo fare dobbiamo fare una dobbiamo praticamente togliere 16 ore e 38 minuti e poi aggiungere 17 ore in realtà qua diventa 0 8 ore e 22 minuti d'accordo? perché qui abbiamo fatto 60 meno 38 22 poi qui qui diventa 7 meno 16 più 17 alla fine diventa le 8 e 22 qui il fusolario era uniforme il fusolario della partenza qui è India non abbiamo dovuto non siamo ricorsi a farci prestare un giorno perché qui ci è venuto in aiuto il discorso del delta lambda fuso quindi 11 marzo meno 11 giorni qui 11 marzo 2022 sappiamo che l'anno non è bisestile quindi questo sarebbe 28 febbraio più 11 giorni sarebbe il 39 scriviamolo bene il 39 02 22 sto scrivendo una costroneria però non posso scrivere 0 marzo quindi alla fine questo diventa 39 febbraio 2022 meno 11 la partenza è per le 8 e 22 del 28 quindi questo è estimated time of departure in maniera molto molto semplice partiamo alle 8 e 22 e arriviamo alle 8 tra le 8 e 22 più o meno dobbiamo navigare da Vladivostok navighiamo verso est attraversiamo il pacifico verso est e già a mezzogiorno dovremo mandare in navigazione in un report ma in maniera molto più facile i giorni sono 11 giorni e 16 ore in questi 11 giorni e 16 ore praticamente dopo 3 ore mandiamo il primo in realtà dobbiamo mandare solamente si tratta guardate del 28 giornata del 28 del 29 scusate del 28 del 1 marzo del 2 marzo del 3 marzo del 4 marzo del 5 marzo del 6 marzo del 7 marzo dell'8 marzo del 9 marzo del 10 marzo l'11 marzo arriviamo alle 8 quindi abbiamo contato 11 giorni 11 volte quindi dobbiamo spedire conviene farlo in maniera semplice perché con il fatto che sono 16 ore potremmo anche arrivare a 12 invii qui ci viene in aiuto però il il delta lambda fuso che in pratica ha ridotto le cose a solo 11 giorni e quindi sono 11 invi ed in un report 11 invii del il null report dobbiamo inviare null report 11 volte d'accordo? ricordo che ci viene in aiuto il delta lambda fuso ok? però facendo dei conti ci arriviamo anche in maniera molto semplice quindi ripeto il conteggio per fare chiarezza a tutti quanti partiamo alle 8 e 22 india sicuramente dopo 3 ore se rimaniamo in fuso india dobbiamo mandare il primo null report quindi 28 e 28 prima marzo 2 marzo 3 marzo 4 marzo 5 marzo 6 marzo 7 marzo 8 marzo 9 marzo 10 marzo l'11 marzo arriviamo l'11 marzo arriviamo alle 8 quindi l'11 marzo non lo dobbiamo non lo dobbiamo spedire quindi dal 28 al 10 marzo sono 11 invii ecco qua la risposta quindi 11.000 non report quante volte l'abbiamo fatto ora di prevista partenza della divost che l'abbiamo fatta 8 e 22 leggiamo durata attraversata in giorni ore e minuti l'abbiamo fatto differenza longitudine di fuso l'abbiamo fatto finito l'esercizio pianificazione e finito il compito sul non report buona giornata a tutti di l'abbiamo la giornata è diciamo qui qua